Amici sportivi un saluto da Fabrizio Agostini ed Emanuele Barsi benvenuti alla finalissima della non edizione dello Young Boys qui al centro sportivo Agora in campo ci sono giovani di lega maglia nera azzurra e centro sportivo la siepe maglia giallo verde ancora caro va via sull'automancino prova al sinistro non lontano dal palo si chiude la difesa del centro sportivo la siepe pisano dentro bianchi favero poi pallone per caro si accentra pallone sul destro palla che rasenta il palo calcio di punizione fidato alla giri prova lui la respinta di favero ancora 0 a 0 Zeccolella mette giù il pallone poi prova a calciare la respinta da parte di Cantarelli Zeccolella anticipato poi va via al centro sportivo la siepe con bianchi di punta di giustezza 1 a 0 centro sportivo la siepe allora Maula Zeccolella prova a caricare il destro l'assist per Rossi che non concretizza allarga Rossi poi pallone per Zeccolella Zeccolella allarga per Maula destro palla fuori Bencivenga per Zeccolella dentro ancora Bencivenga palla e rete pari giovani di lega Bencivenga che ha chiuso una bella azione corale prova il destro la parata di favero Genovesi contro favero guarda Genovesi tiro la parata di favero torneo young boys centro sportivo agora tanto la giri e mette dentro in apertura torna avanti centro sportivo la siepe prova il tiro Giangrande respinto c'è Rossi al volo la gran parata di Cantarelli no look per la giri che va via prova l'assist non ci riesce ancora la giri prova lui la respinta sfera verrà gestita dal centro sportivo la siepe poi bianchi tiro la palla sul palo occasionissima Rossi carica il destro Cantarelli mette fuori 2 a 1 il punteggio parziale di questa sfida favore centro sportivo la siepe maglia giallo verde poi il tiro di barontini respinto da Cantarelli Zeccolella prova a controllare al tirare poi a rimorchio Bencivenga la palla sul palo Poggia Screti poi Pisano pallone lungo per bianchi colpo di tacco Screti palle rete bella azione e arriva il gol del 3 a 1 Giangrande si accentra prova il sinistro respinto ancora Maula sinistro con il piede Cantarelli allora la giri prova a pennellare per Pisano 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 carica il destro poi ci ripensa pallone ancora per Pisano la respinta di Favero e allora Pisano pallone che arriva anzi no c'è Favero che anticipa Caro poi Rossi Rossi prova il tiro grave spinta da parte di Cantarelli Maula Maula prova il tiro sotto misura Maula Barontini ancora Cantarelli Barontini Maula pallone dentro Favero palla che rimane lì Giangrande dentro per Maula prova ad andare via fermato da Caro poi Caro prova lui palla fuori ballone lungo per la giri ancora la giri appoggia per Pisano Pisano palla sul palo e finisce questa finale con la vittoria da parte del centro sportivo La Siepe 3 a 1 nei confronti dei giovani di Lega questa finalissima del nono trofeo Young Boys da Fabrizio Agostini ed Emanuele Barsi è tutto un saluto e grazie per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti